È un po' come se decidessero di vietare i bagni in mare o al lago. Non soltanto a riva, ma pure in una caleta isolata oppure a largo, tuffandosi da una barca a remi o da un semplicissimo pedalò. La versione invernale di questo divieto arriva dalla prefettura ed è rivolta a tutti coloro che hanno a che fare con la neve. Proprio così, da domani è previsto un inasprimento dei controlli sulla fruizione delle piste da sci da parte delle forze dell'ordine. Stop agli impianti di risalita, ma stop anche all'utilizzo delle piste fino al 5 marzo prossimo. Attenzione, sia in discesa che in salita. Un passo indietro. Tutto parte dalla pubblicazione sulla pagina Facebook del Corriere della Sera di ieri, che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI sempre ieri. Il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, a quel punto ha deciso di convocare in videoconferenza una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Livigno, Damiano Bormolini, ed è stato evidenziato che per le caratteristiche morfologiche della località è possibile raggiungere le piste da sci in vetta anche con mezzi privati per effettuare poi la discesa lungo le stesse. Questo però, per quanto riguarda in particolare le persone che stazionano in attesa di prendere gli autobus, potrebbe replicare le condizioni di assembramento che si vogliono evitare con il divieto di uso degli impianti di risalita. Al termine della riunione, il prefetto ha investito della problematica alla presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministri della Salute e dell'Interno, nonché la Regione Lombardia, evidenziando che è necessario comprendere se l'ottica di evitare la formazione di assembramenti è appunto nel senso di escludere l'utilizzo soltanto degli impianti di risalita, lasciando salva la possibilità di adoperare le piste da sci ubicate nei medesimi comprensori da parte degli amatori. In attesa di risposta, la Prefettura, di concerto con le Forze dell'Ordine, ha scelto di adottare l'orientamento restrittivo che, testuali parole, consente l'utilizzo delle piste da discesa e destinate agli altri sport sulla neve entro i limiti di orario di funzionamento degli impianti di risalita e quindi considererà vietato anche l'utilizzo delle piste sino al 5 marzo prossimo. La risalita sulle piste battute dai gatti sono vietate sia con gli sci d'alpinismo che con le ciaspole, con le slitte o a piedi, da evitare anche le soluzioni che aggirino la chiusura degli impianti come l'utilizzo di taxi, motoslitte, gatti delle nevi, pullman o auto private per raggiungere piste da sci vicine alla strada. La discesa nelle piste battute dai gatti è vietata con qualsiasi tipologia di sci, anche alpinismo, snowboard, ciaspole, slitte e simili. Restano infruibili per lo sci alpinismo e le ciaspole i percorsi gestiti, adatti anche ai principianti, che permettono le discese dai percorsi fuori pista adatti a tutti. Da ricordare l'obbligo del kit di autosoccorso con acqua, pala e sonda nolleggiabile nei negozi sportivi della provincia. Necessiterà infine approfondimenti l'ultimo passaggio del comunicato della prefettura che recita «Resta salva da ultimo la possibilità di adoperare le piste nell'eventualità in cui ciò si renda necessario, sia da parte del personale impiegato, sia da parte degli ospiti presenti, per raggiungere le strutture ricettive ubicate in vetta, lì dove non vi sia altro modo per raggiungerle». Grazie. 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 Grazie.